In diretta su RBR Radio TV dalla piazza d'armi del forte di Fenestrelle, tra poco, pochi minuti ci sarà l'inaugurazione ufficiale con le autorità, inaugurazione della prima edizione dell'Alpi Bike Experience, fiera del cicloturismo d'alta quota, abbiamo con noi Mauro Vignola, assessore dell'Unione Montana, del Pinerolese, ricordiamolo il Pinerolese, buongiorno Mauro. Buongiorno a tutti, grazie. Grazie per essere qui con noi, insomma un appuntamento importante, finalmente ci siamo, ricordo la presentazione al Museo della Montagna di Torino, un'occasione in cui abbiamo avuto modo di confrontarci con altre belle realtà, alcune di queste presenti, tra l'altro qui oggi con noi al forte di Fenestrelle, finalmente ci siamo, il turismo d'alta quota, il turismo adatto a tutte e a tutti e anche questo è da sottolineare. Esatto, esatto, anche perché il nostro progetto che ormai penso sia entrato nelle corde di tutti gli appassionati, comunque App Slow Tour, nasce proprio con questo obiettivo di essere alla portata di tutti. Nasce in un periodo strano perché nasce in pieno Covid, quindi voglio dire ha avuto tutta una serie di particolarità, però oggi siamo qui e siamo felici, siamo felici come Unione ma siamo felici come territorio perché questo è un progetto che nasce diciamo dal basso, più o meno, perché comunque interessa, ha preso a cuore l'intento di 13 comuni ma la volontà e quello che poi sta succedendo nella realtà è di diventare un progetto che possa essere condiviso da un territorio che è importante perché il Pinerolese lo è. Il Pinerolese in bici, App Slow Tour, tanti appuntamenti offerti da questa bella realtà che è una realtà che promuove un territorio attraverso la bicicletta, tra l'altro Mauro oggi giornata internazionale della bicicletta, insomma capita proprio a pennello questo appuntamento, è ancora dei più importanti direi. Direi che nulla è lasciato al caso ma un plauso va agli organizzatori che sicuramente sono stati veramente bravi, sono stati veramente bravi e come si dice sarà un evento così forse un po' perturbato per rubare quella cosa, evento bagnato, evento fortunato, quindi noi lo riproporremo alla nausea, quindi sicuramente siamo felicissimi oggi che questo avvenga. Ultima domanda Mauro, ti ringrazio per essere stato con noi, riguarda l'importanza della promozione, l'importanza di raccontare e comunicare il Pinerolese anche attraverso la bicicletta, anche attraverso il cicloturismo, ricordiamo tutte le eccellenze gastronomiche, insomma la tradizione del vino, il vino d'alta quota, ma anche insomma conciliare e far andare in armonia, insomma in modo armonico anche il cicloturismo per intercettare un pubblico che cerca esperienze di questo tipo. Sicuramente sì, sicuramente tutto questo può avvenire solo se un territorio decide che possa avvenire, ma soprattutto se la squadra che lo compone ci crede, noi ci crediamo e sono convinto che tutti ci crediamo, ma manca, cioè il motore è composto da vari elementi, quindi la politica darà tutto quello che ha potuto dare fino adesso e continuerà a farlo, poi oggi vedremo e sentiremo nei saluti, nell'inaugurazione. Però è importantissimo che anche gli addetti ai lavori, diciamo proprio il motore, quello che sono poi i fruitori finali, non ci lasciano solo, lo stanno facendo ma dobbiamo aumentare questa possibilità. Si corre insieme, il Giro d'Italia si corre insieme, si è una squadra, tutti insieme per un solo obiettivo, Absolute Tour, Unione di Montana del Pilaronese, Mauro Vignola con noi, grazie Mauro. Pedaliamo tutti insieme, grazie. Grazie.